Buonasera, siamo qui con Sofia Iacuito, giovane attrice di... quanti anni? 21 anni. 21 anni. Stasera preletteremo un suo corto, dove lei parteciperà a questo corto. Raccontaci qualcosa di questo corto. Allora, è stato bellissimo girare questo corto. Infatti ringrazio la regista Serena Corvaglia. Abbiamo lavorato con delle maestranze strepitose e il primo nome mi viene da dire è Giuliano Montaldo, che ha voluto partecipare a questo corto, ci ha ospitato e ci ha dimostrato che l'amore per il cinema non finisce mai. Giustamente. È stato molto bello, è stato un lavoro intenso, ho fatto con Filippo Scicchitano che è il mio compagno nel corto ed è un corto sull'amore. Ed è bello perché vediamo molte cose con i conflitti, invece è semplicemente un inno all'amore, un inno sia l'amore verso una persona ma anche per il cinema in generale. Ok Sofia, ma raccontaci della tua esperienza come attrice di teatro giusto e anche di cinema e dia ai nostri ragazzi cos'è, cosa dobbiamo fare, cosa devono fare per inseguire questo sogno che tu hai iniziato ad intraprendere così magistralmente. Grazie, io inizio con il teatro, faccio parte della compagnia Giovanni di Roma, la TNT Company, diretta da Barbara Chiesa e ormai da sette anni e poi da lì ho iniziato ad avere un'agenzia, a fare provini. Quello che consiglio ai ragazzi è di vedere tanto cinema, tanto teatro e fare, 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 fare e non smettere mai di crederci. Grazie, grazie mille, grazie a te.